Mancano all'appello per ragioni diverse i turisti russi e cinesi, ma la Pasqua 2022 ha segnato la vera ripartenza del turismo. A differenza dello scorso anno, in cui le ondate pandemiche avevano frenato i viaggi, la fine dello stato d'emergenza ha fatto sfiorare i numeri dell'era pre-covid anche nelle città d'arte. Parliamo di occupazione nel centro storico di un 90% delle strutture alberghiere, comunemente classificate nelle varie tipologie di categoria. A Pasqua, a Firenze, tutte le strutture hanno riaperto i battenti. Mancano all'appello solo quelle che hanno dovuto alzare bandiera bianca a causa della pandemia. Tutte le strutture alberghiere in questo momento hanno riaperto, non hanno riaperto quelle strutture che durante la pandemia, per motivi di forza maggiore, hanno dovuto cessare l'attività, hanno dovuto riconsegnare le chiavi degli immobili in locazione perché non erano in grado di sostenere canoni che magari in quel momento non erano coperti assolutamente da fatturati. Il periodo più difficile in ogni caso pare alle spalle con Firenze che è tornata ad essere meta del turismo statunitense. Gli americani sono gli americani per numero e aggiungo anche per grande capacità di spesa e anche per l'approccio culturale con cui comunque vengono a visitare le nostre bellezze. Nell'immediato però suona un campanello d'allarme, la difficoltà nel reperire lavoratori stagionali. Durante la pandemia una serie di figure che prestavano la propria opera negli alberghi fiorentini italiani sono ritornate nella propria patria. Io parlo ad esempio di chi è ritornato in Romania, molte figure che facevano il riassetto camere venivano da quelle realtà. Ora hanno trovato probabilmente più interessanti altre destinazioni come la Spagna e la Francia dove ci sono condizioni contrattuali forse migliori. Guardando oltre la Pasqua sono al momento buone le previsioni in vista dei ponti del 25 aprile e del 2 giugno.